Ragazzi, oggi un video clamoroso, vi spiego come vendere ogni giorno i vostri prodotti digitali, anche come crearli, ok? Anche qualche spunto di idee che cos'è un prodotto digitale, come potete crearlo, ma poi soprattutto come potete venderlo organicamente, senza, spero mi sentiate, senza il microfono, senza spendere nulla in pubblicità sfruttando YouTube. Avere vendite costanti ogni giorno. Vi ho fatto anche lo schema alla lavagna, la lavagna di Google, iscrivetevi al canale ragazzi, partiamo a bomba, vi ho scorporato l'attività che va fatta ogni giorno su YouTube, per sfruttare YouTube, per avere vendite, ok? Per vendere il proprio prodotto, perché la gente, voi siete confusi, la maggior parte è là fuori, gli YouTuber stessi dovreste vedere questo video, perché non sapete quello che state facendo. Come nascono i YouTuber? Fanno dei video, hanno un sacco di follower e di iscritti, guadagnano, vengono contattati, si ritrovano in questo mondo, ma loro non sanno quello che stanno facendo. Magari gli capita anche di guadagnare soldi, ma potrebbero fare molti più soldi, se fossero un attimo consapevoli. Quante volte avete visto i vostri beniamini poi ad un certo punto lanciare dei prodotti e ricevono un sacco di insulti, perché poi fanno dei lanci, hanno community gigantesche e vendono le cose a poco prezzo, monetizzano poco. E invece un piccolo canale come questo, per esempio, che non ha neanche 10.000 iscritti, già, sì, si sta avvicinando, ma già sugli 7-8.000 iscritti fa i suoi 10.000 euro al mese, tra tutto, tra la monetizzazione, le sponsorizzazioni, le affiliazioni, roba che non fanno a magari canali da 30, 40, 50, da 100.000 visualizzazioni. Quindi se anche tu vuoi fare un percorso serio su YouTube e vuoi partire bene, come ti faccio a vedere in questo video, ma se vuoi approfondire vai nel link in descrizione cash.michelemaranino.com, entra in Marrakesh, il mio programma personale dove ti posso affiancare e aiutare a lanciare il tuo canale YouTube Personal Brand oppure Cash Cow Channel e hai praticamente due ore di consulenza con me, un videocorso completo con tutti i segreti della SEO che ti fanno avere più visualizzazioni, avere più visibilità, più impression, raggiungere più persone, fare più views, se vuoi guadagnare con le views, se vuoi guadagnare io ti affianco e dalla consulenza capiamo se possiamo mettere in piedi un canale YouTube completo che è fatto praticamente di prodotti che vendi tu, affiliazioni, di partnership, ti devi prendere tutto e io ti aiuto a lanciare un canale YouTube a estrarre il massimo profitto. Adesso ti spiego per esempio in questo video come funziona la vendita di un prodotto digitale organicamente e sto facendo un sacco di consulenze, infatti sono rimasti solo due posti, clicca ed entra subito in Marrakesh se vuoi guadagnare con YouTube veramente, leggiti tutta la sales page, ma sto facendo già un sacco di consulenze perché sto seguendo un sacco di gente, gente veramente mi capita di tutto e di più, gente che veramente purtroppo non ha comprato corsi che non doveva comprare, ha speso soldi, ha comprato canali monetizzati, non è riuscita a fare niente perché veramente non ha tutte queste informazioni, quindi entra in Marrakesh e soprattutto guardati questo video perché già qua ti ribalterò il cervello. Andiamo a vedere come funziona YouTube, come va usato per vendere ogni giorno, ecco mi è capitato una persona che aveva comprato, addirittura mi vendono anche i prodotti digitali, è pazzesco, dovrei veramente ampliarmi, però per chi non vuole ti vendono tutto effettivamente dove c'è un mercato, c'era una persona che aveva comprato un prodotto digitale e poi gli avevano insegnato a fare pubblicità su Facebook, però questo vendeva tipo a un prezzo basso e con la pubblicità non ci stava dentro, ha fatto solo due vendite, poi ha mollato, no noi sfrutteremo YouTube, sfrutteremo il funzionamento di YouTube, tutto il suo, diciamo, magico mondo organico, essendo YouTube un motore di ricerca e facendo i video in un certo modo avremo visualizzazioni costanti ogni giorno in organico senza pagare traffico e poi se faremo le cose bene, se faremo il video bene, ovviamente avremo delle conversioni, ma adesso vi spiego tutto e questa è soltanto la punta dell'iceberg, se vuoi approfondire su YouTube ragazzo mio, non so perché mi è venuta questa espressione, vai in descrizione, entra in Marrakesh, ti posso proprio aiutare a mettere in piedi un canale YouTube che macina visualizzazioni e ti fa guadagnare dalle visualizzazioni, che hai video strutturati bene per vendere un prodotto digitale, quindi organicamente ottenere ulteriori vendite, fare affiliazioni, ottenere contatti da agenzie e da aziende per sponsorizzare i loro prodotti, puoi fare una marea di soldi con YouTube anche se non hai centinaia di migliaia di iscritti, anzi molto probabilmente se fai le cose fatte bene come faccio io, come ti spiego io con il mio metodo, puoi fare molti più soldi con meno iscritti, farai molti più soldi degli YouTuber che hanno centinaia, decine di migliaia di iscritti, ok? Andiamo a bomba adesso, iscriviti al canale perché metti un like e commenta amici, sei tornato a bomba anche a settembre, ci stiamo abbeverando alla tua fonte, scrivete subito perché mi aiutate, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti entro settembre, credo che ce la facciamo, siamo a 9.460 nel momento in cui registro, dai, 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 iscriviti. Allora, e poi vai in descrizione, cash.michelemarino.com se vuoi essere seguito da vicino da me e lanciare per bene un canale YouTube, 2 ore di consulenza, un video corso completo, 4 video già pronti di oltre 10 minuti con cui partire a bomba, realizzati dal mio team, non so più, a soli 697 euro, ragazzi, veramente, i prezzi più bassi è vergognoso, io sto lucrando poco, quindi iscriviti e compra subito Marrakesh. Allora, io adesso ti spiego come funziona YouTube, questo è veramente il funzionamento di YouTube, te lo spiego dall'inizio, però poi dovrai partire al contrario quando tu vorrai creare la tua attività su YouTube. Allora, si parte sempre da un video, un video che cosa fa? Non è che un video parla perché devi fare il gattino virale, no, tu sei, devi entrare nell'ottica che YouTube ti avvicina a potenziali clienti, ok? E ecco perché poi devi partire al contrario, perché se tu non sai che cosa vendi, non sai di che cosa parlare, quindi prima, cioè quando scegli la nicchia, la devi cercare in base a quello che vuoi vendere, cioè tu scegli la nicchia e scegli il prodotto da creare, puoi, io in questo video parlo nel titolo messo prodotto digitale, creare un prodotto digitale che è a costo zero, cioè te lo crei tu, può essere un libro, può essere un corso, lo fai tu a costo zero, ce l'abbiamo tutti un computer che ha una webcam o un cellulare per registrare delle video lezioni e si può fare degli ottimi prodotti se siamo bravi in qualcosa da vendere che possono aiutare le persone con cui guadagnare ed è tutto a costo zero perché poi lo venderemo attraverso YouTube organicamente. Zero costi, l'ho messo nella copertina, zero spese, zero ads, né per i prodotti né per le ads e avrete vendite ogni giorno, ok? Ovviamente non partiranno subito perché i video educano, fai un video di tanti argomenti e piano piano uno si convince e dice, oh ma questo è proprio bravo. Ovviamente questa è una lezione un po' riservata a chi vuole metterci la faccia ma si può applicare anche ai cash cow channel, si può fare una roba del genere fatta bene anche senza metterci la faccia. Entra in Marrakesh, te lo consiglio se vuoi fare le cose per bene. Ultimi due posti, clicca in descrizione, cash.michelemaradino.com Il video agita un problema, offre una soluzione. In descrizione e poi qua mi sono dimenticato, testo e poi ci vuole qui una call to action, ragazzi. Perché poi la call to action, call to action. La call to action, ragazzi, che la mettiamo qui in mezzo, ok? La call to action va in descrizione, ok? Perché ti posso aiutare maggiormente. Facciamo l'esempio della nicchia, facciamo una nicchia, una nicchia, facciamo finta, allora facciamo che siamo, perché anche se sei un libero professionista puoi usare YouTube per praticamente trovare clienti. Facciamo finta che tu sia un'agenzia di viaggi o organizzi viaggi, ok? Quindi nel video fai le 5 e facciamo l'esempio con questo. 5 località migliori che puoi visitare a Strasburgo. Sarebbe, agita un problema, offre una soluzione. Qual è il problema? Che cosa guardo quando vado a Strasburgo? Io ti do 5 cose da guardare. Poi, call to action, se vuoi sapere di più su Strasburgo e altri viaggi, vai in descrizione e clicca sul link. A questo punto, in descrizione, puoi avere due tipologie di link. Un link dove vendi direttamente il tuo viaggio a Strasburgo o il tuo prodotto digitale, ok? Declinatelo nella vostra nicchia, ragazzi, sono esempi. Oppure, e la cosa che vi consiglio, create un approfondimento. Ve lo faccio con l'esempio così capite ancora meglio. In questo caso, scarica il libro gratuito, 200 pagine su Strasburgo, la guida completa, ok? Oppure può essere un mini corso gratuito. All'interno del mini corso gratuito, poi, a che cosa vi serve? Che cosa vi serve tutto questo? Per acquisire contatti, e siamo qui. Quindi, mail e cellulare. Quindi, per scaricare il report, per scaricare l'ebook, per scaricare il mini corso gratuito, ok? Devono compilare. Tutto questo si fa con ClickFunnel. Io ve lo dico sempre. Io utilizzo ClickFunnel per fare le landing page, le sales page, le opt-in page, ok? Sono tutte cose che dovete sapere se volete fare una cosa del genere. Ovviamente, in un video non posso spiegarvi tutto. Venite dentro Marrakesh e vi aiuto anche in questo. Cioè, in base a quello che volete fare, io posso individuare. L'ho già fatto, ho individuato diversi. Con chi è già dentro, stiamo già costruendo dei prodotti. Sto dando delle idee per realizzare dei prodotti e per monetizzare anche dalla vendita diretta, che è un'ottima entrata, ok? Quindi, acquisire contatti. Quindi, scarica, mi lasci la mail e il numero di telefono e io ho i tuoi contatti. A quel punto gli mando delle mail. Diciamo che questa parte qui, allora, voglio usare questo. Questa parte qui dei prodotti gratuiti, ok? Vedete? Che sto evidenziando il rosso, che poi magicamente scompare. Serve assolutamente, anche perché, diciamo, riscaldate ancora di più. Uno guarda il video 10 minuti, 8 minuti, quello che è, 5 minuti. Poi si guarda l'altro video lungo, magari un corso di nuova gratuito, e già vi conosce meglio. Poi gli cominciano ad arrivare delle mail. Nelle mail, perché dovete utilizzare un autoresponditore, quindi quando uno lascia la mail, in automatico si crea una lista di contatti di possibili clienti. Come si fa? Io utilizzo GetResponse, l'autoresponditore. Potete utilizzare quello che volete. Vi dico anche gli strumenti. Ecco, queste sono le uniche spese. Io spendo per ClickFunnel 97 dollari al mese e tipo 80 euro al mese per l'autoresponditore. Stop! Poi c'è YouTube e via. Questo è un metodo veramente a costo zero, che sfrutta YouTube e il suo potenziale organico, ok? Le mail, diciamo, nelle mail praticamente vedete, dovete imparare a vendere, ok? E se è piaciuta la guida, il corso su Strasburgo, guarda, c'è un viaggio, ecco, potete vendere di tutto. In questo caso non è neanche un prodotto digitale, è un viaggio. Stiamo organizzando un mese a Strasburgo, tutto pagato, hai visto quanto è bella? Se vuoi vedere anche tu quanto è bello, clicca. E quindi le mail è automatico, oppure i venditori potete chiamare al telefono, vendono poi il prodotto. Il link diretto, mettetelo, perché poi voi dovete entrare nell'ottica che uno guarda un video, poi ne guarda un altro, un altro, poi magari si iscrive, scarica il report, guarda tutti i contenuti gratuiti, gli arrivano le mail, ancora non ha comprato, però al quindicesimo video va in descrizione, va direttamente sul link e compra. Quindi in descrizione dovete sempre mettere sia il link di vendita diretta che il link al prodotto gratuito, ok? Io vi consiglio di fare questa roba qua. Potreste anche tutto questo toglierlo e vendere direttamente, perché YouTube ha anche questo potere di educazione con i video, ok? Però dovete creare tanti video e magari al ventesimo video uno ti compra perché tu lo hai educato. In tutto questo ci aiuta l'intelligenza artificiale, facciamo finta ora, l'esempio con Strasburgo, l'agenzia di viaggi non calza a pennello, magari vogliamo creare un, facciamo con un prodotto digitale, voglio creare un libro per chi, un libro di giardinaggio, ok? Un libro di giardinaggio, la guida completa a sistemare il tuo giardino e il tuo prodotto. Ecco perché, qui mi riallaccio a quello che ho detto prima, cioè quando voi volete creare un'attività del genere dovete partire dal prodotto. Quindi scegli la nicchia, in questo caso il giardinaggio, crei il prodotto, devi andare a ritroso, no? Hai creato il prodotto da vendere, poi mi serve il prodotto gratuito, poi mi servono i video che agitano il problema e affrono una soluzione, che è il prodotto gratuito, che poi vende il prodotto. Quindi tu hai, che ne so, la guida completa, addirittura il prodotto digitale, lo puoi creare anche con ChatGPT, quindi possiamo aggiungere zero spese, zero ads, non dobbiamo fare pubblicità perché YouTube è organico, e zero competenze, ma è in 2023. E io, ditemi che non sto sognando, ma hanno inventato una roba che si chiama ChatGPT? Cioè già, avevano inventato YouTube ed era un sogno, ma con ChatGPT, anche chi non ha competenze, che studia da me, però, perché il 90% degli YouTuber queste cose non le sa, non le fa, e anche se ha community gigantesche, non le monetizza in questo modo, non ha questa consapevolezza di creare video. Capite? Perché vi dovete iscrivere al canale e dovete commentare, perché questo è un video pazzesco, di un valore pazzesco, queste sono le robe che io, chi mi conosce lo sa, avrei dovuto dirlo prima, ma io sono Michele Maraglieno, ho un business nella musica, vendo video corsi, faccio questo tutti i giorni, un canale YouTube di quasi 13.000 iscritti, ok, che mi produce, l'abbiamo detto in altri video, 3-4.000 euro al mese e che ho abbandonato quasi, mi fa 3-4.000 euro al mese, perché vende in organico, con video anche vecchi, perché la gente... sono video fatti per essere trovati, anche questo andiamo a sviluppare in Marrakesh, a capire che video fare, adesso vi faccio degli esempi, però è una roba che va da sola, perché io adesso mi sono concentrato su Michele Maraglieno Business, Michele Maraglieno Musica, diciamo un po', non in stand-by, va da solo, mi fa 3-4.000 euro al mese senza dovermi impegnare, e in più sto monetizzando con questo, io tutto questo ve lo posso insegnare, non stiamo parlando di centinaia di migliaia di iscritti, se volete fare i soldi, se voi volete diventare influencer, youtuber famosi e soddisfare il vostro ego, non vi posso aiutare, io vi aiuto a monetizzare con YouTube, a estrarre il massimo profitto da YouTube. Ragazzi, iscrivetevi perché è uscito un corso, praticamente un mini corso gratuito, pazzesco. Quindi, abbiamo la nostra guida, quindi la cosa importante è partite, vuoi aprire un canale YouTube, monetizzare con YouTube? Parti dal prodotto, ok? Quindi, la guida definitiva al giardinaggio, come sistemare il tuo giardino, ok, hai scelto, questo è il prodotto, lo crei con CiaGPT, lo crei con le tue conoscenze, fai quello che vuoi, crei un videocorso, quello che vuoi. Dopodiché, come lo vendo, crei il prodotto gratuito che vende, ok? La guida, i dieci comandamenti per un giardino perfetto, stupendo. Andiamo ai video, vado su CiaGPT e gli chiedo, scrivi dieci titoli di video con argomento cura del giardino. E lui ti dà già i titoli? Forse dovevo scrivere... no, va bene, scrivete YouTube, così lui ve lo scrive in maniera un po' SEO. Vedete, i segreti della cura del giardino, consigli essenziali per principanti, come creare un giardino floreale e splendente passo dopo passo, giardinaggio biologico, coltivare un giardino. Ogni video che fate, vedete, ogni problema, giardinaggio in città, come fare un giardino in spazi limitati, vedete, agita il problema, offre la soluzione, manutenzione del prato perfetto, trucchi e suggerimenti, giardinaggio invernale, come prendersi cura del giardino durante la stagione fredda, ogni video è un problema che poi voi andate a risolvere e poi c'è una call to action che abbiamo messo qui, call to action, ok? Pianti da interno, come coltivarle con successo, ok? Come avere un giardino interno, fate il video, spiegate tutto e poi alla fine, vuoi sapere di più, scarica la guida gratuita sui dieci comandamenti per un giardino perfetto. Bam! Nella guida poi... Scrivete tutto quanto e alla fine fate anche una call to action testuale, anche nella guida, se utilizzate il testo, se fate un video corso, fatelo a video, poi, vi è piaciuta questa guida gratuita adesso o se vuoi approfondire qualcosa di più, prendi la guida definitiva, il giardino perfetto, sono esempi, e acquista. E' tutto qua ragazzi, è tutto qua, c'è tutto qua, finché qualcuno non me l'ha detto voi stavate di dover fare le visualizzazioni. Che per carità, mentre noi facciamo tutto questo, mentre noi facciamo video su video, scrivimene altri venti, quindi siamo a 30 video, mentre noi facciamo questi video, otteniamo anche la monetizzazione, forse non ha capito, scrivimene altri... otteniamo la monetizzazione, più video facciamo, però sono video, capite che... è duplice la cosa, sono video fatti consapevolmente, che vendono qualcosa, che però aiutano le persone, siete chiari, espliciti, dall'inizio dite che c'è un prodotto gratuito, un prodotto in vendita, se non volete mettere questa parte, e via. Dopo che avete fatto tutti sti video, arriveranno le vendite in organico, perché uno entra in tutto questo... qualcuno un tempo lo chiamava fan, nella mela mi piacciono, i termini, infatti non uso mai, i lead magnet, parlo molto semplice, qualcuno questo l'avrebbe chiamato quasi, non lo so, non mi interessa cos'è, dovete semplicemente fare così, e fare soldi, e vendite ogni giorno, perché la gente guarda i video, il primo video diciamo, ok interessante però poi non fa niente, ne guarda un altro, al quarto video scarica il prodotto gratuito, al decimo video poi compra, perché lo stesso YouTube diventa comunque... voi continuate a mandare email, che possono educare e vendere, e contemporaneamente pubblicate video, e una persona da pubblico freddo, diventa pubblico caldo, che poi compra. E ragazzi, e avete vendite, ci vorranno qualche mese, due, tre mesi, quattro mesi, giusto per crescere su YouTube, per questo vi consiglio, entrate in Marrakesh, così avete anche il corso completo sulla SEO, come fare i titoli, la descrizione, mettere gli hashtag, per diciamo essere più visibili, crescere, così andate più veloci, però poi potreste anche creare una struttura del genere, che si vado ad aggiungere come fonte di entrata, a tutto il resto, alla monetizzazione, alle affiliazioni, alle partnership, alle sponsorizzazioni. Ragazzi, video bomba, per tutti quelli che vogliono veramente fare sul serio su YouTube, non vi fermate a questo video, andate in descrizione, vedete che cosa sto facendo, faccio quello che insegno, e funziona, sono rimasti in un sito posto, andate in descrizione e comprate, Marrakesh, io questa parte non l'ho fatta in questo canale, perché sono pigro, vengo da un altro canale, che è pieno di punti di ingresso, la gente entra, scarica le guide, e poi gli arriva, e diventa, con l'autoresponditore, poi è tutto automatico, tu lavori magari un mese, crei tutta questa struttura, e poi vada solo, devi fare solo i video, ti posso insegnare tutto questo, link in descrizione, cash.michelemanenio.fos, video caloroso, gratuito, iscriviti, perché veramente ho dato tantissimo valore, cose che là fuori non vi fanno vedere, non ti dicono, quindi, se hai visto il video fin qui, ti ringrazio, iscriviti al canale, commenta, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!